Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tessi. Ho creato oggi una nuova poesia da titolo Accrescimento. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia da titolo Accrescimento perché sarebbe inutile vivere senza un accrescimento. Sarebbe inutile quindi essere un umano mediocre di poco risalto. L'accrescimento divino quindi dona a noi dei sapori celestiali che danno di sommo lavoro per realizzare traguardi solenni. Quindi siamo spinti ad accrescere le nostre potenzialità per migliorare giorno dopo giorno. Vi leggo adesso appunto la poesia da titolo Accrescimento. Sarebbe inutile vivere senza un accrescimento. Sarebbe inutile essere un umano mediocre di poco risalto. Siamo nati per stupire, per donare il meglio. Siamo nati per arricchire il nostro povero bagaglio. L'accrescimento divino dona a noi i sapori celestiali. Dona a noi il sommo lavoro per realizzare traguardi solenni. L'accrescimento divino offre sete di speranza. Offre fame di carità. Dona fatti sacri d'immensa fierezza. Grazie e spero la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci.